C'è una grande emozione, siamo felici di essere i primi dopo il lockdown a farlo. Penso che sia giusto che sia Dior a farlo perché la tradizione di Dior è quella di aver lanciato la propria maison subito dopo la guerra, quindi subito dopo un periodo terribile e credo che questo DNA, questo ottimismo, questa voglia di vivere e di ricominciare sia proprio mia e del mio team e quindi siamo felici di essere. Ci sono due elementi importantissimi in Italia e in Francia, il turismo e la moda. Sono elementi fondamentali perché danno anche lavoro a tantissime persone. trovare il modo anche in condizioni difficili di portare avanti un progetto, un impegno fondamentale per mantenere anche la speranza che potrà migliorare la situazione. Grazie. 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 Grazie.